Buongiorno a tutti ragazzi sono Lo e benvenuti in questo secondo episodio su Outlast Allora, c'è stato un piccolo inconveniente Con la registrazione, mi sono accorto prima che mentre stavo registrando Non stavo registrando l'audio e quindi ho dovuto interrompere la registrazione Meno male me ne sono accorto abbastanza presto dove non è successo praticamente niente Ho dovuto praticamente andare a cercare un tesserino per entrare in questa stanza E attivare il sistema di sicurezza Mentre lo stavo attivando una telecamera ha inquadrato Martin, il prete che tipo tirava giù una leva E faceva saltare la corrente Nel mente è arrivato Porcellino e abbiamo scritto questa nota Un cazzone mi sta seguendo, ho trovato la carta di un certo Chris Walker, ex posiziotto militare Che è stato parecchie volte in Afghanistan Molto del sangue è stato qui dentro per mano sua, ma non tutto Quindi Dov'è? Non so dove sia andato Non lo so dove sia sinceramente Tutto fottutamente buio Ah e doveva andare nel seminterato ad andare a riaccendere questo fottuto generatore Io chiudo la porta Se sa mai Documento, documento Omocrazia, omicidio ad ipnosi Per te ho messo dentro un suggerimento postipnotico nella morte Signore Jackson Vabbè ammade leggerlo sinceramente Se volete leggerlo mettete in pausa e leggetevelo Voi Qui già c'è luce Qui no Oh merda Qualcuno Ma non ho le mine di dove sia Spero non qui Merda 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 Devo andare lì Oh shit Merda è chiusa no Maledetto 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 C'è qualcuno C'è Qualcuno Non so dove Non so dove Dove sei? Qua devo andare lì probabilmente Ok siamo dentro Finiamo sta cazzo di porta Dove mi posso nascondere? Sotto al letto poi Maledizione Attima Oh lo stai Mi ricordo che ogni volta che attiva la pompa Può arrivare tizio Ecco un punto Eccolo Buongiorno Vai via Vai via Vai via Pezzo di merda No Perché sei qui davanti fermo No Tu no Un altro fantasma Per come se fosse normale E qui c'è una Buona batteria Buona batteria Non fare bordello Ora che entri Dentro Merda Dentro Dentro Ho sentito che ha detto Chi è Chi è là Ho sentito Sta entrando Sta entrando Sta entrando Sta entrando Maledetto 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 Eccolo Eccolo qua il cristiano Ok faccio random Ma cazzo sulla macchinetta Adesso la videocamera Se è andato in cielo Ho paura a uscire Ho paura Ho tanta paura Non so se se n'è andato Quante sono le pompe da accendere? Due o una? Non ne ho idea Cioè due o tre Rischiamo Eccolo lì Poi devo andare là Attiva le due pompe L'interruttore Qui dovrebbe esserci l'interruttore Ah mancava un pezzo Da attivare Ecco infatti Una chiave C'è una chiave Una batteria E ora? Sbughiamo qui E ricarica Da rega c'è un'ansia assurda A sto pezzo Quanto è brutto Tutto buio Ma ste stanze Completamente futili Oh merda Non l'avevo vista Dove? 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 Ah rega Avevo detto che avrei cambiato L'inquadratura del video Ma non l'ho fatto Alla fine Perché Non sapevo dove posizionarla La macchinetta In alternativa A come era Nello scorso episodio Quindi l'ho lasciata lì Dov'è? Ah la leva Shhh È uno quello? No non mi sembra Oh merda Mi ha visto No 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 Chiuditi Dove mi nascondo? Dove? 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 Armadietto Armadietto Dentro Ah Ah Dio mio Ho infartato Dai su Vieni bastardo Eccoli qui davanti Perché non posso aprire Tipo la porta All'improvviso Io la so non faccia Maledetto bastardo Mi ha fatto io un colpo Che vogliamo fare? Ne sei andato? Adesso Ho una seconda idea Che secondo me fa alimentare come pochi Bisogna correre Merda Eccolo ancora Merda Merda Rieccolo Perché ritorna Dovrò il modo di seminarlo Regà Ma è impossibile così Senza prendermene una mazzata sui denti Eccolo Ora mi tocca 3 2 1 Via Così per forza Regà È l'unica Vai 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 Via di qui Era l'unica Forza No non era qui Non mi sta più seguendo Bastardo Ho fregato Ho infartato un attimino Senza dei rumori Non molto piacevoli Chi è? Ci tua Chi sei? Non me lo ricordo Sempre lui Non volevo ancora vedere molte cose Non ancora Non ancora Non c'è C'è ancora C'è ancora C'è ancora Per te Per te Per te Da�� te Dove Prendi Puoi Tu Il Il Abbraccio Il Vangelo E ti stai tirando Tutte le porte Cane malefico E' un animale E' un altro pochino avanti Perchè comunque Per il momento Anche il blocco Dei 15 minuti di video Finchè non confermo Con il numero di telefono Che Al momento Non so se posso farlo Cioè lo faccio dopo Ma non me va Però mi fermo Sempre prima dei 15 minuti Dai Anche per non fare video Troppo lunghi Che magari annoiano Allora ci troviamo qui In una stanza Non molto bella Resti in peace E' arrivato in pace Vedi il no Che vengo inserito All'interno di un taccuino Quando sollevi la videocamera Per registrare eventi Ok Note Il prete padre Martin Mi ha portato qui Per mostrarmi qualcosa Secondo lui Sarò testimone Di chissà quale stronzata Non so cosa vuole farmi credere Questo dottor Verniche E' la causa di quello Che è successo a questo posto Ma è morto Più di dieci anni fa Sui muri c'è una scritta Fatta con il sangue Riposa in pace Rest in peace Non uccise i suoi nemici Mi apri bastardo? Grazie Tu si che sei un amico Tutto un braccio Un po' sto carino Ouch Oh ciao bello O tu mi sei di tipo simpatico Devo dire Posso entrare nel senso Che ti incazzi? Non ti faceva una mano Se ha detto lui Ma quando il gatto non c'è Sì mi sta simpatico anche tu Ma preferisco chiuderti la porta Oh ciao Ma questo chi è? Oh i pirulini Che schifo Vediamo un vantaggio Sì 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 Ottimamente Datemi un vantaggio Andate a fare in culo Possibilmente C'è un cazzo Uff Naggia pure a te Puzia qua Bardracca di tu madre Però ragazzi Voglio Non posso chiudermi dentro E quindi ragazzi Vi ringrazio per la visione Lasciate un like Un commento del video Vi è piaciuto Ciao zio Noi ci si vede Al prossimo episodio Ripartiremo proprio da qui Spero di non rifare cazzate con l'audio Da lui è tutto Bella Grazie a tutti Grazie a tutti